Facciamo i chilometri, oh, superiamo gli ostacoli, oh, col diavolo, in fondo al cuore, in fondo al cuore, in fondo al cuore, ci facciamo i chilometri, oh, superiamo gli ostacoli, oh, col diavolo, in fondo al cuore, in fondo al cuore, in fondo al cuore. ale 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 milanale ale 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 milanale non mollare perché questo è un canto d'amor che ci viene dal cuor forza milanale doriale doriale forza doria doriale 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 forza doria doriale Forza Doria, forza Sampdoria, lalalalalalalalalalalalalalalalalalal Alle e Doria alle, tutti insieme alle, Doria alle, alle, alle e Doria alle Vai, 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 vai..." GOL, 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 GOL. GOL, 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 No! 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 23.08 ce l'abbiamo fatta parcheggiare anche questa volta davanti a casa ce l'abbiamo fatta anche questa volta basta io sono calibrato anche stasera come sempre questa squadra vi farà rimangiare tante parole prima per radio ho sentito un commento che qualcuno ha scritto se il Milan mercoledì ne prenderà due a Liverpool dovrà già essere contento e io aspetto mercoledì come aspettavo oggi come aspettavo le altre partite è praticamente un anno e mezzo che continuo a sentire frasi denigratorie offensive contro questo club contro questa squadra questi giocatori questi dirigenti anche e soprattutto da quelli che si definiscono si spacciano per milanisti ma che di milanismo non hanno proprio niente e vedrete 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 la stagione scorsa per buona parte della stagione siamo stati in testa al campionato poi tra infortuni squalifiche limiti di rosa e cose varie poi non siamo riusciti a vincere il campionato siamo arrivati i secondi questa stagione tre partite tre vittorie comprese le amichevoli milan non ha mai perso nei tempi regolamentari milan la prima giornata ha affrontato la Sampdoria che era una squadretta oggi la Sampdoria dicono che ha fatto un punto poi vedremo poi vedremo poi vedremo io non sto scherzando continuate a denigrarci a sottovalutarci ma perché non vorrei che se smetteste di farlo siccome abbiamo una squadra anche giovane non vorrei che poi si montassero troppo la testa penso di no perché Paolo sa come tenerli sa come tenerli in pugno e come farli rigare dritti con Paolo non c'è questo rischio e Paolo vedrete come li farà scendere in campo mercoledì mercoledì scenderà in campo il nostro DNA i nostri globuli del sangue la nostra identità la nostra storia mercoledì scenderà in campo al di là del risultato al di là che si vincerà o si perderà il nostro DNA sarà in campo mercoledì sera sarà in uno dei campi più importanti del mondo e poi ce la dichiareremo per il momento tre partite tre vittorie nove punti e sette gol realizzati uno subito per il momento poi perderemo